Libera TV, è merito del Nano o della Lega questa vittoria? Del Nano, con la Lega, del Nano che ha costruito le basi solide per continuare per i prossimi centalli, sempre vincenti. Adesso però è dura, siamo uniti e resteremo sempre uniti per il ringraziamento e portare avanti tutto quello che ha fatto il Nano per il Ticino, non per lui, come si dice, ma per il Ticino, per tutti, per la popolazione, se no non saremmo così se non ci fosse stato lui. Ma adesso però da domani amici come prima anche con gli altri partiti? Ma certo, ma noi non siamo mai stati nemici con nessuno. Noi siamo sempre stati propositivi a differenza di altri, siamo sempre stati per la gente, vicino alla gente e a volte non ci disturbava più di quel tanto che dicevano populisti eccetera, populisti con la gente noi ci siamo, sempre e comunque. E niente, io sono felice, più di questo non potevamo chiedere e forza Marco, la grande Lugano, la grande Lugano e del Nano.